Ciao a tutti, sono Desiree e sono qua per parlarvi del sito campionigratuti.eu questo sito dove attraverso una semplice registrazione gratuita potrete vedere delle varie offerte su dei campionari i settori sono diversi, ovvero bambini e gianati, estetica, profumi, cani e gatti, oggettistica, cibo, vini, software, utility, sfogliabili, cartaci c'è davvero un'infinità di cose all'interno di questo sito e io sono un utente personalmente e ho mandato a prendere un campionario di profumi della Miss Broadway che adesso vi mostro, il primo è questo qua che si chiama Stage, il secondo è questo che si chiama Stand Innovation, il terzo e ultimo è questo che si chiama Star all'interno dei campioncini ci sono scritti le varie fragranze, gli ingredienti e perché si sono ispirati a questi nomi e un'altra cosa che mi andate a prendere sono delle perline per le unghia, per le decorazioni che vi mostro vi censuro qua il sito ma la cosa importante è che voi non pagherete assolutamente nulla infatti, né spese di spedizioni, né iscrizioni per iscriversi al sito, nient'altro questo qua viene addirittura dall'America cioè, mi sono dovuto iscrivere a quel sito e mi hanno mandato in un mese queste perline ecco, riguardo i tempi di spedizione dipende dalle varie ditte ovviamente il sito non si fa carico dei tempi però vi posso dire che in massimo un mese potete ricevere i vari prodotti che avete ordinato io vi suggerisco di iscrivervi intanto al sito poi mettere il mi piace nella pagina Facebook così che giornalmente potete essere aggiornati sulle varie offerte se non avete il tempo di andare ogni giorno sul sito almeno sulla pagina Facebook gli utenti, anzi gli admin, condividono sempre le varie offerte quindi vi invito ad andarci nei prossimi video che farò vi illustrerò altre novità del sito e per ora non mi resta niente da dirvi solamente di andare sul sito e di salutarvi ciao